Questo solo vorrei sapere da voi, è per le opere della legge che avete ricevuto lo spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che, dopo aver cominciato nel segno dello spirito, ora volete finire nel segno della carne? Galati 3, versi 2 e 3 La differenza tra la santificazione mediante la grazia e la santificazione mediante la religiosità. La santificazione per grazia richiede fede, mentre la santificazione per opera richiede solo che il prezzo sia pagato con sacrifici, riti e buona condotta. Il peccatore, non sarà mai guarito dal suo peccato, se pensa che, ogni volta che commette un errore, avrà un modo per pagare, tramite le pratiche religiose, e Dio si accorderà con la sua buona prestazione religiosa. Questo, invece, lo renderà sempre più cinico. Il peccatore convertito alla grazia, tuttavia, si sente spinto dall'amore quando crede che Dio lo ha già perdonato e lo perdonerà sempre. Questa bontà di Dio tocca il suo cuore e lo Spirito Santo lo convince di questo amore incondizionato e questo gli dà la forza necessaria per migliorare la sua condotta e, solo allora, la sua santificazione sarà genuina. Il Vangelo è semplice.